Fratelli, la liturgia di oggi fa tutto convergere su Cristo, centro dell'universo, centro della storia, centro della nostra vita, su Cristo Gesù, Salvatore dell'uomo, fuori di Lui non c'è salvezza. Nella prima lettura è Giovanni che dice il padre conosce il figlio e lo ha dato agli uomini, chi riconosce il figlio riconosce il padre, ma chi non riconosce il figlio non può avere accesso al padre. E Gesù, la parola che Dio ha dato all'uomo come risposta, all'uomo che cerca la verità, che cerca la felicità, che cerca la via, ha dato Gesù, Gesù come fu chiamato dall'angelo fin dall'inizio, secondo il Vangelo che abbiamo letto ieri. E Gesù, l'unica parola del padre che riconosce Gesù, ha la via aperta verso il cielo, verso Dio, verso la salvezza, verso la luce, verso la vita. Chi non accetta Gesù si precluda la via verso il cielo, resta nelle tenebre e nella morte. Questa è la parola di Giovanni, questa è la parola che ci testimonia la verità che dobbiamo accettare, beati coloro che hanno ricevuto l'unzione e riconoscono questa verità. Il padre punta verso il figlio e mostra il figlio. Nel Vangelo è Giovanni, che è il più grande degli uomini, sta all'apice di tutta l'umanità, ed egli ha dita Gesù come l'unico Salvatore. Sei tu il Cristo, io non lo sono, l'unto è un altro. L'unto è uno che sta in mezzo a voi, che voi non conoscete. Io vi battezzo in acqua, ma c'è quest'uno che è in mezzo a voi, egli vi battezzerà in fuoco e Spirito Santo. È lui il Cristo, è lui il Salvatore. Ecco la voce di Giovanni che rappresenta la voce dell'umanità, che cerca il Signore, che ha dita Gesù, unico Salvatore. Il Cielo e la Terra convergono verso Gesù. E ci ha dita in Gesù l'unica salvezza. In mano agli uomini vogliono scardinare dal cuore degli uomini questa verità. È soltanto il Marigno che imperi in questo mondo, che vuole cancellare questo nome, perché questo nome è la sua rovina e vuole portare la rovina agli uomini. Invece oggi il Signore ci dice Gesù è la vostra salvezza. Non eliminate Gesù. È il Padre che ce lo dice, ed è Giovanni che ce lo dice, è il Cielo che ce lo dice, è la Terra che ce lo dice, è Dio che ce lo dice, ed è l'umanità buona, l'umanità illuminata per bocca di Giovanni che ce lo dice. È Gesù l'unica salvezza dell'uomo. È questa verità centrale che noi dobbiamo accettare, che dobbiamo difendere, che dobbiamo innanzitutto comprendere e gustare. È per questo che Giovanni ci parla dell'unzione. Voi avete l'unzione, l'unzione dello Spirito, per cui potete comprendere questa verità e accettare questa verità. È l'intelligenza della verità, l'unzione dello Spirito. Noi battezzati siamo stati unti di Spirito Santo e abbiamo l'intelligenza aperta per comprendere questa parola. Abbiamo il cuore aperto per accettare questa parola, ma guai quando l'unzione non funziona più, quando invece il maligno ci seduce. Noi abbiamo l'unzione, cioè l'intelligenza della verità. Abbiamo la mente aperta dallo Spirito a conoscere la verità ed è questa verità che ci rende liberi, che ci realizza. Guai a quelli i quali si chiudono a questa unzione. Guai a quelli che non l'hanno ricevuta perché non possono comprendere la verità, la verità di Gesù, che è l'unica salvezza dell'uomo. Ma noi abbiamo compreso che Gesù è la verità. Ed ecco allora la testimonianza nostra che deve unirsi alla testimonianza del cielo, alla testimonianza dell'umanità, cioè alla testimonianza del Padre, alla testimonianza di Giovanni. Deve unirsi la nostra testimonianza. Dobbiamo testimoniare noi che abbiamo ricevuto l'unzione che Cristo è il Signore, che Cristo è la salvezza, che fuori di Lui non c'è salvezza. Oggi dobbiamo testimoniarlo. Oggi che il mondo sotto la spinta del maligno cerca di sradicare dal cuore dell'uomo Cristo, unica salvezza, cerca di sradicare la luce per rimettere le tenebre, di sradicare la grazia per rimettere il peccato, di sradicare la vita per rimettere la morte. Fratelli e sorelle, il nemico è presente in questo mondo e seduce tutti gli uomini. Nella verità, nella fedeltà alla parola di Dio, dobbiamo aderire a Cristo personalmente, ma aderire realmente a Cristo, con tutta la mente, con tutto il cuore e con tutte le opere. Cioè vivere di fede, di speranza e di carità e dobbiamo a denti stretti difendere questa nostra posizione contro il mondo che cerca di eliminare Cristo dalla coscienza degli uomini, contro una società che vuole sradicare Cristo dal cuore degli uomini. Una società permeata dal maligno, condotta dal maligno, attraverso strutture contorte, attraverso un commercio sconforto e ritorto, dove si insidia e si insedia il nemico per poter insidiare gli uomini. Fratelli e sorelle, noi siamo nella verità, difendiamo la nostra verità, difendiamo Cristo, patrimonio nostro e siamo luce di Cristo in mezzo alle tenebre. Guardate ogni tanto, io osservo l'osservatorio che sta in alto e vedi il maligno che serveggia in mezzo agli uomini. Lo vede là dove nessuno lo vede, dove tanti credono che non ci sia, è là, è là che egli manovra per sradicare Cristo dal cuore dell'uomo, per sradicare Cristo dalla società, per sradicare Cristo, unica salvezza dell'uomo e riportare l'uomo verso la perdizione. E' il tentativo estremo che fa il maligno in questo scorcio, in questo ultimo anno del secondo millennio, prima che si entri nel terzo millennio. Noi siamo i fedeli di Cristo e dobbiamo lottare, lottare per non farsi sorprendere nel sonno dal maligno, non lasciarci adescare dal maligno che usa tutte le arti per farci così colorare di luce ciò che tenebra, per mascherare la tua presenza. Dobbiamo essere attenti ed essere saggi, avere il sale della sapienza per comprendere dove è il bene e dove è il male, dove è la verità e dove è l'errore e lottare, lottare per noi, per le nostre famiglie, per i nostri figli, perché il maligno è all'opera. E dobbiamo avere in bocca Gesù. Domani celebreremo la festa di Gesù. Ieri abbiamo celebrato la festa di Maria e l'angelo aveva pronunziato il nome Gesù. Fu battezzato Gesù, cioè fu circonciso e gli fu posto il nome Gesù secondo quanto era stato chiamato fin dall'inizio. Fin dall'inizio Gesù benedetto venne chiamato Gesù. Questa parola uscì dalla bocca del Padre. Il primo a chiamarlo Gesù fu il Padre e consegnò questo nome all'angelo il quale lo rivelò a Giuseppe, lo rivelò a Maria. Lo chiamerete Gesù. Egli fu posto il nome di Gesù. Prima che noi uomini questo nome fu pronunziato dal Padre fin dall'inizio e furono gli angeli santi a portare questo nome sulla terra. Gesù è il Salvatore. Oggi il maligno vuole sradicare Gesù. Ma noi dobbiamo ribadire Gesù. Dobbiamo pronunziare il nome di Gesù, non soltanto con le labbra, ma con il cuore, nella fede. Dobbiamo avere Gesù dentro di noi, fuori di noi. Dobbiamo ribadire che Gesù è Gesù il Salvatore, l'unico Salvatore nostro, l'unico Salvatore del mondo. Chi riceve Gesù riceve il Padre e ci riceve la vita. Chi non riceve Gesù è nella morte, è nella morte senza rimedio. Non c'è salvezza fuori di Gesù. Questa è la parola d'ordine. Fuori di Gesù nessuna salvezza per nessuno, perché il Padre ha posto la salvezza di tutti. Gesù nel cuore, nel cuore, dove egli dimora e devi dimorare, nella fede e nella grazia. Gesù ha anche sulle labbra. Questo nome dobbiamo pronunziarlo sempre, nelle ore della desorazione, nelle ore del dolore, nelle ore del dubbio, nelle ore della lotta, perché il nome di Gesù è medicina nelle nostre malattie, nei nostri dubbi. Perché il nome di Gesù è dolcezza per chi crede, perché il nome di Gesù mette in fuga il maligno, perché il nome di Gesù è forza che abbatte ogni potenza nemica. Nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio, in cielo, in terra, in ogni luogo. Tutto il cielo si piega al nome di Gesù. Lo adorano gli angeli di Dio e scritto nelle scritture. Gli angeli del cielo, i cremini, i serafini, i troni, le dominazioni, le virtù e le potestà, i principati, gli arcangeli e gli angeli, i ventiquattro miliardi, i quattro esseri viventi e tutti gli spiriti celesti si piegano al nome di Gesù e gridano a Gesù. Anche noi qui nella terra pieghiamo le ginocchia davanti a Gesù e lui adoriamo il Padre che lui ha posto la salvezza del cielo e della terra. Fratelli e sorelle, io vorrei ripetere questa parola che non è una parola, anzi è la parola, la parola di vita che deve dimorare nella nostra anima, nel nostro cuore, deve risonare sulle nostre lambra e dobbiamo predicare dovunque Gesù, pronunziare il nome di Gesù, ribadire il nome di Gesù, gridare il nome di Gesù perché parole di bestemmia escono dal bocchio degli uomini perché il mondo è pieno di bestemmia e in mezzo alla bestemmia dobbiamo fare risonare il nome augusto di Gesù. Il nome della luce che dirà della tenebre, il nome della vita che fa risorgere i morti, che deve la morte dalla faccia della terra. Fratelli e sorelle, non voglio fare una predica ma voglio dare il mio cuore a voi in questo momento, voglio consegnarvi Gesù salvezza, Gesù, 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 ricevetelo questo Gesù dentro il vostro cuore, sia la vostra forza, la vostra luce, sia la vostra guida nel cammino, sia la spada con cui voi potete sconfiggere il nemico, sia il bastone di viaggio verso il cammino della vita, Gesù nella mente, Gesù nel cuore, Gesù nella lambra, Gesù nella vita, perché Gesù è il figlio di Dio e il salvatore dell'uomo. Fratelli e sorelle, non vi ingannino gli uomini, non vi ingannino il nemico, non vi ingannino questa società costruita dal maligno su basi false, non vi ingannino gli uomini che sono ministri del maligno, ma ricevete l'unzione dello Spirito, il Santo Batesimo che avete ricevuto, sia luce per la vostra mente, sia forza per il vostro cuore, il Santo Batesimo rivive in voi, voi avete ricevuto il tatuaggio divino, sì il tatuaggio divino. Oggi il nemico cerca in alcuni elementi di fare il tatuaggio, quanti giovani tatuati, che segna questo, che segna questo, è il segno del carattere indelebile, è una sborfia del nemico. Il Batesimo imprime in noi il carattere indelebile, il sigillo dello Spirito Santo. Noi i Batesati abbiamo questo sigillo, sempre e dovunque, perché è indelebile. E il maligno cerca di rendere suoi servi attraverso un segno visibile, il tatuaggio, è il segno del nemico. Tante volte il nemico non raggiunge lo scopo perché i giovani nostri non sono coscienti, ma è il segno del nemico, è il segno del, questo tatuaggio che è quasi indelebile, è il segno visibile dell'appartenenza a lui, dell'appartenenza alle tenebre e come la distruzione del segno indelebile del battesimo, del segno interiore. Fratelli e sorelle, tutto converge per farci comprendere bene la lotta che stiamo ingagliando e che stiamo così conducendo avanti, la lotta tra le tenebre e la luce, la lotta tra il corpo di Cristo mistico e il corpo del diavolo mistico, come lo chiama Sant'Agostino. E la lotta tra i due regni, ma il regno della luce deve trionfare sul regno della tenebre e nel nome di Gesù che noi dobbiamo combattere e nel nome di Gesù noi trionfaremo. Avremo i nostri martiri, avremo i nostri veriti, avremo i nostri morti, ma la battaglia è sicuramente vinta da Cristo perché lui è il vittorioso. Sia questo un anno di lotta contro il male per il trionfo del bene, sia questo un anno in cui ripetiamo il nostro amore al Padre che ci ha dato Gesù e nel nome di Gesù noi vogliamo lottare perché il mondo guarda il cielo, perché il mondo continua il suo cammino verso il Padre, perché questo anno sia un anno di ritorno alla fede, un anno di ritorno al Padre che per amore nostro ha mandato il suo figlio diretto. Signore, rompi il gioco del maligno. Tu sei venuto a rompere il gioco, come dice il profeta. il gioco che grava sulle nostre spalle e noi siamo liberi perché questo gioco è stato infranto. Signore, qual'era il protesto romano? Signore, ci metti in guardia contro coloro che vogliono pervertirci, che vogliono farsi vedere una cosa per un altro. Attenti, apriamo gli occhi perché il cuore dei semplici può essere distorto. Noi abbiamo la verità, siamo i figli della verità e la luce della verità deve sempre risplendere nella nostra mente e nel nostro cuore. Prima della lettura delle intenzioni che sono poco questa mattina, vorrei presentarvi questo foglio e l'ammen. All'inizio c'è una poesia bella, è nato il bambino Gesù dopo il Buon Natale e Felice Anno Nuovo e poi c'è un articolo mio, è una lettera che io invia tutto il gruppo sulla preghiera vera. Qual'è la preghiera vera? Il Padre cerca adoratori veri, non adoratori falsi. E l'anno del Padre dobbiamo ritornare alla preghiera vera, quella che si consuma dentro il cuore. Alla preghiera personale, tutti i danni nostri dipendono dalla mancanza della preghiera personale. Se noi ci genocchiamo davanti al Padre, ne chiuso dalla nostra camera e passiamo come Gesù le notti in preghiera, allora tutto cambierà. La forza nostra è la preghiera personale. Nei nostri gruppi è la preghiera personale che assicura così il fervore. Qui è scritto la mancanza della preghiera personale. La mancanza di entusiasmo, il raffreddamento della carità fraterna, l'intiepidimento della nostra vita, il decadimento dei carismi dipendono dalla mancanza della preghiera personale. E allora ecco la consegna che io do a tutti i miei cari fratelli, ritorniamo alla preghiera personale. Impieghiamo del tempo per ritrovarsi con il Padre ne chiuso dalla camera. Tu a tu, nel profondo del cuore, è là che sgorga l'acqua viva, è là che Gesù ci darà bene l'acqua sua e ci riseta, è là che avviene l'incontro dell'uomo con Dio, è là che dobbiamo ritornare. E allora la vita comunitaria e la preghiera comunitaria avrà una forza nuova e un volto nuovo. Poi c'è un trafiletto dove si attira l'attenzione, attenzione, ve lo leggo, tengo a precisare quelle che più volte ho detto anche dall'altare, io lo dico sempre da tanto tempo ma voglio precisarlo. Primo, nessuno è autorizzato a fare preghiere come facente parte del mio gruppo su qualsiasi persona, né tantomeno a fare preghiere di liberazione o di esorcismo, attenti agli imbruioni. Cioè nessuno è autorizzato a nome mio ad andare in giro per fare preghiere, preghiere che di liberazione tanto più mi manda Padre Matteo, sono il braccio destro di Padre Matteo, io sto vicino a Padre Matteo e lui che mi manda, io non mando nessuno. Secondo punto, nessuno è incaricato da me a fare raccolte in denaro o in natura, per conto mio o per conto di altri, attenti ai truffatori. Ci sono quelli i quali si spacciano come i miei collaboratori e raccolgono a nome mio, bussano a tante porte, raccolgono, io non autorizzo nessuno, nessuno è autorizzato a fare raccolte, a raccogliere denaro, quando qualche persona vuole dare un'offerta alla faccia personalmente, nella luce dello spirito, per quell'intenzione che vuole, ma io non autorizzo nessuno a fare alcuna raccolta. Nessuno deve andare a nome mio, da questo o da quello, a dire raccolgo per Padre Matteo oppure per conto di Padre Matteo. Io lo smentisco in pubblico perché ho sentito tante voci che non vanno bene, voci che possono anche danneggiare. Per cui lo avverte caldamente, io l'ho avvertita tante e tante volte, l'ho avvertita anche dall'altare e il medesimo avvertimento è stato fatto dal parroco per conto suo, anche dal parroco qui di passo deligeno per conto suo, perché ci sono i truffatori che girano, comunque io non autorizzo nessuno. E sappiatelo bene. Quel poco che il Signore ci manda, ce lo manda lui, ma noi non facciamo raccolte e non deleghiamo nessuno a raccogliere denaro. Terzo punto, nessuno è invitato a lasciare un'offerta, anche minima, per preghiere di intercessione. Cioè, quando si prega, si prega come Gesù vuole, gratis avete ricevuto, gratis date. Per cui, non si accettano offerte, anzi si sconsigliano di dare offerte per preghiere ricevute. Chi vuole lasciare l'offerta? La Dio è poveri. Se vuole fare una lemosina la faccia pura, ma non perché sono state fatte delle preghiere. Ossia, una preghiera con cui noi quasi ci si disobbliga dando una lemosina, questa preghiera non va. Noi diamo gratis quello che abbiamo ricevuto. tantomeno possiamo ricevere denaro per preghiere che facciamo. La preghiera è un atto libero, per cui si prega di distogliere questo messo tra preghiera e denaro. La preghiera è libera, non è soggetta a denaro, non si dà denaro per la preghiera. Questo è bene che noi lo ripetiamo. Chi vuole dare un'offerta la Dio pure, ma non è legata alla preghiera, non legata alla preghiera. Vogliamo essere puri al 100% su questo punto, puri al 100% su questo puro. Lo ribadisco qui solennamente davanti a tutti. Ancora si è poi scherzare con il fuoco. Che cosa è successo? Un gruppo di giovani è venuto da me, è stata una giornata durissima, venivo da Ragusa, era arrivato qui dopo le 11 e ho trovato un gruppo di 10-11 ragazze in preda al panico. Avevano fatto sedute spiritiche, si erano manifestati tanti segni che li avevano messi in paura, volevano un esorcismo, ho fatto una preghiera, sono venuto l'indomani, ho fatto una seconda preghiera, ho visto anche la medium, con lei che agiva. Poi non sono la sorta di queste ragazze, è in una scuola e in un istituto superiore di Palermo. Io voglio prendere lo spunto per dire che questi scherzi non si fanno, è il nemico che va a fare questi scherzi, scherzi di cattivo gusto che possono aprire le porte al diavolo. Il minimo che succede in questi ragazzi è lo sconvolgimento mentale, l'inettitudine alla vita, si raffredda il cuore, si ottunde l'intelligenza, questi ragazzi poi si arrestano anche nello studio. Mi raccomando a questi ragazzi di non dare a questi pub, ci sono i pub satanici. Mi hanno riferito di pub dove, come ho detto, si beve nei testi umani, si beve, si cozzoviglia, tutto è nero, tutto induce al male. E attenti ai papà e alle mamme, alla televisione, state attenti a selezionare i programmi, perché attraverso i programmi i nostri bambini imparano parolacce, imparano parolacce e dicono queste parolacce al papà e alla mamma come se fossero dei regali. Lo spettacolo cessa, ma la parolacce è rimasta, l'idea è rimasta e questi bambini crescono maliziati, non più innocenti come prima. State attenti a dove comprate, nei negozi, dove l'Aniège mette sempre il suo marchio, dove ci sono delle figure di horror, sia nelle camicette, sia negli slip maschili e femminili. È uno scempio attraverso cui il nemico entra e fa danno. Tutto questo a proposito di questi ragazzi che sono venuti per chiedere aiuto. Il resto potete leggerlo. E allora fratelli e sorelle, rimettiamoci nella via della luce e rimettiamo la via della tenebra. Il Signore ci lascia liberi. La via del bene e la via del male. La via del bene conduce alla vita, la via del male conduce alla morte, dice la scrittura. Adesso leggiamo le poche intenzioni di preghiera e continuiamo nella Santa Messa. E vogliamo invocare il nome di Gesù, perché il nome di Gesù deve accompagnarsi sempre. Il nome di Gesù che significa la persona di Gesù. Anche la nostra preghiera è fatta nel nome di Gesù, nella persona di Gesù. È lo Spirito Santo che muove in noi Gesù a pregare. La preghiera che viene fatta nel nome di Gesù, cioè quando è Gesù che prega in noi, è esaudita. Perché tante preghiere non sono esaudite? Perché non sono fatte nel nome di Gesù. Cioè non è la persona di Gesù in noi che prega, ma siamo noi a pregare. e allora invochiamo questo nome. A fuori di invocarlo deve scendere dentro di noi e possederci totalmente. Alla dolce presenza tua, Signor, il nome tuo Santo adoriamo. Il tuo nome è Gesù, il nome che pari non ha. Il gioco che gli pesava sulle spalle e la sbarra che era sul suo collo, il bastone del suo cusino, tu hai spezzato come al tempo di Madian, perché un bambino è nato in mese a noi e questo bambino è il figlio di Dio, è chiamato Gesù. Consigliera mirabile, Dio potente, Dio potente, Principe della pace. Ecco, fratelli e sorelle, in questo momento, nel nome di Gesù si spezzi il legame, si spezzi il gioco che grava sulle nostre spalle, e tutti possiamo, nel nome di Gesù, re della pace, proseguire il cammino di quest'anno verso il Padre. Amén.